Per acquistare crediti visitate FIFA Coin Stank, un sito economico veloce e sicuro al 100%. Inoltre potete utilizzare il mio codice coupon che trovate in descrizione per avere il 5% di sconto. Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic e sono qui a portarvi il primo episodio, anzi diciamo l'episodio numero 0 della nuova serie che vi porto sul mio canale, cioè il Lazard Road to Chelsea che è un tipo di serie che sono davvero orgoglioso e fiero di aver portato io in Italia per la prima volta nel lontano ormai 2013 con il primo Balotelli Road to Milan, vi ripropongo anche quest'anno questo tipo di serie non con Balotelli come avevo fatto anche l'anno scorso, bensì con Hazard per fare una squadra un po' più internazionale ultimamente il Chelsea perché comunque secondo me è una delle squadre anche migliori e più divertenti da fare su Ultimate Team partendo da ovviamente Hazard che è in realtà un giocatore che non ho ancora provato quindi mi auguro sia buono altrimenti ho fatto veramente una gran cagata però comunque sia, piano piano vi spiegherò le regole, in questo episodio non ci sarà nessuna partita perché ovviamente è soltanto un episodio introduttivo in cui appunto vi spiegherò come funzionerà la serie e quindi intanto andiamo a vedere Hazard, vi faccio subito vedere che l'ho pagato ben 438.000 crediti quindi un prezzo abbastanza grosso, però comunque sia Hazard, un 88, quindi tanta roba dunque, io principalmente utilizzerò questo modulo, il 433 con il trequartista, con il COC perché è forse uno dei migliori moduli, oppure cambierò, delle volte utilizzerò il 4231 con gli esterni però vabbè, quello si vedrà durante la serie vi volevo subito parlare delle regole di questa serie allora cominciamo dalla prima regola che è quella fondamentale cioè che ci saranno solamente partite amichevoli come ho fatto l'anno scorso con le altre serie simili a questa mi spiego meglio, solamente partite appunto amichevoli, partite singola online non voglio fare le stagioni, le divisioni come molti fanno perché secondo me diventa poi troppo impegnativo, delle volte anche frustrante in alcuni casi perché poi non si riesce mai a finire e io voglio che comunque questa sia una serie divertente una serie semplice comunque, rilassante anche per me perché non voglio accendere la play e farmi venire il mal di stomaco perché devo giocare in quinta divisione per dire e quindi volevo fare le amichevoli proprio perché sono semplici, sono simpatiche incontri qualsiasi tipo di avversario e non avversari con sempre le stesse squadre e quindi mi piace di più così poi, la seconda regola qual è? non mi passerò nessun credito nel caso facessi gol con Hazard molto, in alcune serie che ho fatto tempo fa se facevo gol con un determinato giocatore mi passavo 500, 1000, 2000 crediti poi dipende dai gol mentre, visto che è comunque un budget diciamo illimitato su quest'account i giocatori li comprerò con il mio budget e non in base ai gol che farò con Hazard anche perché poi, boh, secondo me non è neanche giustissimo terza regola i giocatori come faccio a procurarmi? intanto, come vedete, questa è la squadra più o meno base con i giocatori che avevo nel club quindi ho tirato su questa sorta di squadra se vogliamo definirla così mi comprerò un bronzo o un argento prima i bronzi, poi gli argento ogni partita cioè prima di ogni partita mi prenderò un giocatore bronzo poi quando finisco i bronzo disponibili prenderò gli argento e poi gli oro mentre gli oro quando ovviamente finirò bronzo e argento li prenderò ogni episodio uno ogni episodio e quindi almeno riusciamo a dilungare sempre di più questa serie perché me la voglio portare un po' più avanti non la voglio finire in un mese ecco, per capirci poi, terza regola importante la formazione anche se più o meno utilizzerò sempre questa e soprattutto i giocatori da schierare in campo anche poi in base alla forma eccetera eccetera molto spesso li potrete scegliere voi sotto nei commenti, nei video oppure su Facebook non lo so, comunque si vedrà quindi voglio che questa serie sia una serie interattiva dove il pubblico partecipa anche perché poi è più divertente e vi sentite magari più coinvolti da questa serie e come quinta e penso ultima regola perché al momento non me ne vengono altre in mente è quando la squadra sarà più o meno completa cioè che avrò l'11 oro per capirci farò un torneo oro classico e ovviamente dovrò, penso, cercare di vincerlo poi si vedrà più avanti per terminare, per concludere questa serie al momento non mi vengono in mente altre grandi regole da mettere poi al massimo le metterò negli episodi successivi ah, vi ricordo che ci saranno ogni episodio, credo, tre partite adesso sto commentando in live perché vabbè è il primo episodio invece nei prossimi episodi alcuni li potrei fare come sto facendo adesso in live commentary mentre altri non in live bensì io gioco e basta e poi commento in seguito magari poi dipenderà anche dal mio tempo a disposizione perché comunque quelli in live serve sempre un po' più di tempo comunque raga io penso che sia tutto penso di avervi dato tutto comunque se non vi è chiaro bastate che mi scrivete qualcosa nei commenti oppure se volete aumentare le regole di questa serie fatemi sapere voi come potrebbe diventare più divertente questa squadra, questa serie come al solito ragazzi mi invito a lasciare un bel like se questo video raggiungerà i 400 barra 500 mi piace farò uscire subito, presto al più presto il primo episodio effettivo di questa serie in cui giocherò commentate ovviamente come vi ho detto prima innanzitutto scrivendomi se siete felici che ne so cosa vi sembra questa serie se siete se vi piace eccetera eccetera e iscrivetevi al mio canale pagina facebook, twitter, instagram tutti i link li trovate come sempre in descrizione ci vediamo al primo episodio ovviamente successivamente bella ragazzi e iscrivetevi al mio canale e iscrivetevi al mio canale